E' arrivato il pronto soccorso. Ecco il pronto soccorso. Ecco il kit medico. E' arrivato 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 il kit medico. Ecco il pronto soccorso. E' arrivato il kit medico. 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 Oh, acquistato sul dato delito nell'area operativa, passo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Dove pensi di andare? Torna indietro! Ecco qui il tuo kit medico Un peccino nemico nell'area operativa, passo Ecco il kit medico Ehi, ehi, sveglia! Alla riparo, lancio granata! Alla riparo, lancio granata! Lancio granata! Lancio granata! Prendi quel kit medico! Occhi aperti! Alla riparo, lancio granata, lancio granata, lancio granata, lancio granata! Un peccino di più! Un peccino di più! Un peccino di più! Forza ragazzi andiamoci dentro, non siamo più in testa, cazzo! Ah, che sto per farlo fuori! Grazie a tutti! 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 Ho qui il kit medico! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Mi hanno bloccato qui! Grazie a tutti! 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 Forza! Grazie a tutti! 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 Ecco il kit medico. Ehi, sei andato alla grande, non fermarti ora. Faccio un allerta, ho individuato un soldato nemico, passo. Ho visto un soldato nemico, passo. Siamo a metà strada. Allora, sono per colpire col figlio di mutana. Ehi, riposto tra noi. Bene, siamo a metà strada. Prozzi, sto per eliminarlo. Mi devo portare il soldato nemico, c'è una strada mia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Calazione! Cala qui! Attenzione! Lo faccio saltare in aria! Ho avvistato un soldato nemico nell'area operativa, passo! Ho avvistato un soldato nemico nell'area operativa, passo! Stai a una volta! Vieni il pronto soccorso! Ecco un kit medico! Passi a destra! Ho avvistato un soldato nemico, passo! Attenzione! Ho avvistato un soldato nemico nell'area, passo! Qui il tuo kit medico, amico! Ecco il kit medico! Stai a destra! Ho avvistato un soldato nemico nell'area operativa! Ehi! 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 ho il tuo kit medico ecco il kit medico il kit medico ai tuoi piedi raccoglilo merda batteria nemica qui il kit medico forza prendilo raccogli il kit medico il kit medico il kit medico Va bene, attruttate! Siamo per adesso! I piedi con i suoi piedi! Raccoglilo! Ho bisogno di un avalto! Sono bloccato! Attenzione! A riparo! Ho percorso il palpizio di puttana! Hai davvero salvato le chiazze, grazie! Tieni, riprenditi con questo! Ecco il kit medico per te! Ehi, attenzione! Sto per colpizio! Ehi, attenzione! Sto per colpizio! Mi serve un ragazzo di mano qua giù! Gagio! Sto per colpizio! 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 Ehi, attenzione! Non soldato nemico... Aiuto! Aiuto! Sono bloccato! Sono entrato il soldato stile nell'area operativa, passo Sono entrato il soldato stile nell'area operativa, passo Ho qui il kit medico amico Sono entrato il soldato stile nell'area, passo All'area operativa Ancora l'intervento Un'altra volta Ancora l'intervento Ancora l'intervento Ancora l'intervento Attenzione! Ho avvistato un soldato nemico nell'area! Passo! Attenzione! Ho avvistato un soldato nemico nell'area operativa! Passo! Sono pronto a scuola! Sono tornato! Sì, non vieni! Torna a combattere! Non mollare l'area! Non mollare! Bene, soldato dovreste essere a posto! Batterie nemica! Sì! 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 Ragazzi! Andiamo vincendo! Cazzo! Sì! 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 Raccogli il tuo kit medico. Grande! Ne restano solo tre. Dobbiamo farli fuori. Tre ragazzi! Solo tre! Avanti! Merda, Doc! Chi ti ha fatto l'attenzione? Tre! Elimino quel passaggio! Adesso un kit medico! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!